L'esercizio che viene proposto, diventa davvero complicato così il corpo libero? Lei ha cercato di fare il burattino nel modo migliore possibile, quindi c'è riuscita secondo me in maniera molto efficace. Siamo al volteggio con Kelly Sim per la Gran Bretagna. Un salto dalla rondata, andiamo a vedere se farà uno o due avvitamenti, no, con mezzo giro, salta avanti mezzo. Ha effettuato mezza rotazione dopo la spinta sulla pedana, quindi è sempre uno yurce.